Siamo al Key Point di Catanzaro di Francesco, un amico mai. La roba arriva in tempo ragazzi, ma spedite roba ovunque, pure in Thailandia arrivano senza problemi. Li portavamo a penne, arrivano vicino. Detto questo, ho beccato una barzelletta, e la dedico al Key Point di Catanzaro di Francesco. Peccinchè. Peccinchè, la scuola che mi dice, mi sta facendo ora un show. C'erano due brigate, ci disse, Maria quanti soldi hai? Io si girava, era già un brigato tosse. E io, due euro. Se con due euro faccio un bel giugno che dava. Però se mi dai due euro a me, io sono un genio. Facciamo come ti dico io. Chiamo che cattiamo una piusta, perché di gigante. Chiamo e viviamo alla poteca. Allora, quando è l'ora che aveva pagata, mi metto un piustero. Mi metto un piustero. Mi metto un piustero. E mi metto un piustero. Mi metto un piustero. E quindi ne cacciano, ne cacciano fuori da pagare. Dice, ma funziona? E dice, ma funziona? Mi metto due euro a cattare un piustero. E se vengono alla poteca e cominciano. Comincio, prendiamo, compa. Comincio, compa. Arrivarono un quarto passognatino. E biccare del vino. E non è stata una tomba. Cioè, pronto, sì. Allora, sì. Mi sono visto. Io non si incoconavo. Come si incocona in terra un patrone di vita. Sti cazzi, bastardi e merda. Allora, da un negozio mio. Pum, pum, scaffi, cazzotti, cacci. Chi si dice vuole? Si taglia l'accia. L'accia si taglia l'orecchio. E quando mi indaglia dava. Mi ammazzava. Quando era mezzo zompo, ci dice. Però, guarda quanto vipo. Eh, vipo. Un regolare preciso. E la stessa storia che c'era la prima, la seconda, la quarta, la quinta poteca. Sempre così. Riminavano e cacciavano. Non pagavano mai. Non pagavano mai. Allora, alla sesta poteca. Capito che ci ha chiesto. Vai. Se taglia. Tipo una cosa. Si. Se per favore. Mi doni. Mi doni. Mi doni un viusterla a mia. No? Che prima mi incocono in terra. Mi doni le noci. Se mi dai il viusterla a me. E ti incoconi tu. E so che. E mi dice. Vai. Un viuster. A Democro per dire. Mi doni. No. 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 No.